Garante dei detenuti insieme alla garante dell'infanzia e dell'adolescenza Rita Turino, protagonisti anche di un altro incontro sempre in Sala Argento dal titolo Attraverso i nostri occhi, per raccontare dall'interno il punto caldissimo di Samos in Grecia dove i migranti vivono in una situazione che ricorda non di rado una sorta di prigione a cielo aperto. Sono privati dei loro diritti e dove non hanno la possibilità di far sentire la loro voce. Gli scatti, le foto fatte dai ragazzi minorenni ospiti a Samos attraverso il lavoro di una serie di associazioni di giovani italiani che sono andati lì a fare volontariato. Ogni ragazzo riceve una kodak usegertacolori e viene chiesto loro di raccontarci la loro vita al di fuori della scuola.